Allora, partiamo con la lezione di oggi, partiamo al razzo e appunto eravamo arrivati, così, a ragionare un po' di faith e di potential quindi quello che è il destino di una cellula e quello che è il suo potenziale e ragioneremo ancora un sacco di questo rapporto, no? nell'idea che comunque il potenziale è sempre un po' più ampio del destino e il destino si scrive lentamente, il destino cellulare, rotolando giù da questo pendio che Waddington ha disegnato per noi negli anni 50 Allora, ma come si fa a seguirlo poi nella realtà, questo destino? Perché poi la questione è sperimentale, è pratica, no? Una cosa è la teoria di faith e di potential, l'altra cosa è la pratica cioè cercare di vedere che cosa succede per davvero e per fare questo noi dobbiamo poterlo seguire prima di tutto il destino poi cercheremo di saggiare la plasticità, verificare quanto questo destino può essere modificato in che modo, da che tipi di forze Ok, però per prima cosa questo destino lo dobbiamo descrivere lo dobbiamo descrivere e questa descrizione già può dare moltissime informazioni Allora, la questione di descrivere il destino ok, si tratta, è essenzialmente quella di seguire dei lineage di cellule ok, dei lineaggi seguire delle famiglie di cellule quindi c'è un founder, una cellula madre da cui originano delle cellule figlie da cui originano delle altre cellule figlie e alla fine ci saranno una serie di destini cellulari che originano da quella cellula quindi noi in qualche modo possiamo saggiare il potenziale di quella cellula in condizioni fisiologiche valutando quello che è il destino della sua progenia Allora, ma come si fa a seguire questo destino? questi lineaggi sono molto evidenti nell'embrione però poi le cellule si mischiano tutte una con le altre e non è proprio facile riuscire a seguirle ci vogliono dei marcatori bisogna marcare qualche cosa e avere questo marcatore che si tramanda nella progenia che viene trasmesso nella progenia Allora, la natura un pochino viene in aiuto perché ci sono alcuni invertebrati marini soprattutto ma non solo che in cui la mamma, la madre lascia nell'uovo un po' di pigmento dei colori, dei coloranti sono dei coloranti naturali e per esempio in questo tunicato studiato dal signor Conklin all'inizio del Novecento i colori sono anche variegati quindi si possono seguire più lineaggi e quindi il signor Conklin ha fatto quello che molti fanno ancora adesso con tecniche più o meno sofisticate cioè si è messo con pazienza a seguire il tramandarsi di questo colorante naturale di questo pigmento nella progenia nei lineaggi quindi lui vedeva come andava distribuendosi e ovviamente per grosse categorie di cellule lui seguiva essenzialmente i primi blastomeri però riusciva a dire per esempio che questo blastomero qua in basso dà origine a cellule che poi nell'animale, nella larva in realtà vanno a costituire i muscoli quindi in questo lineaggio c'è in modo invariante sempre la muscolatura in effetti se vi ricordate che cosa succede all'embrione vi ricordate che abbiamo parlato diversi modelli di specificazione una nel riccio di mare e un'altra proprio in un tunicato ricordate qual era la differenza? cosa succedeva se io disgregavo i primi blastomeri del riccio di mare? cosa succedeva? cosa succedeva di questi? ripensiamo al modello dei determinanti dello zio Weisman si formavano dei pezzi singoli ognuno un pezzetto nel riccio di mare chi vota per ognuno un pezzetto o chi vota per quattro larve normali? quattro larve normali? uuuu ok pezzi singoli e separati? ma che bravi hai visto? esatto mentre invece nel tunicato quattro larve normali? quattro pezzi singoli? quattro pezzi singoli? scusate? esatto un po' più timidini su questa cosa esatto si parlava di specificazione regolativa o a mosaico nel caso del mosaico appunto ci sono dei determinanti e questo è proprio quello che succede nei tunicati in questo in questo blastomero si scoprì poi dopo c'è una proteina si chiama macio e come dice il nome è importante per diventare cellule muscolari abbiamo parlato l'altra volta di questi fattori di trascrizione questi interruttori che possono accendere specifici destini cellulari questi possono essere accesi attraverso interazioni tra le cellule in modo regolativo oppure da determinanti già presenti nella cellula questo è il caso del determinante già presente nella cellula lasciate la mano ok ma comunque questo è un modo di seguire un lineaggio seguire il colore nella progenie è chiaro che non è proprio sempre fattibile c'è un problema di diluizione di questo colorante siete d'accordo? le cellule si dividono se la massa di citoplasma aumenta troppo rispetto a quella originale a un certo punto il colore è troppo diluito non si vede più però diciamo ci sono una serie di animali in cui effettivamente l'uovo ha già più o meno tutta la massa che ci sarà poi nell'embrione nella larva ok? non c'è un grosso aumento di materiale questo succede in moltissimi embrioni e ovviamente questo facilita moltissimo perché noi possiamo mettere semplicemente del colore per esempio il signor Bogd fece esattamente questo con l'embrione di rana prese una serie di frammenti di agar li intrise con un colorante vitale li mise sull'uovo e in qualche modo riuscì a determinare una mappa di quelli che sono i destini cellulari a partire da determinati parti dell'uovo ok? diciamo che tutto questo lavoro sembrava indicare una fortissima invarianza cioè sembra tutto molto predeterminato ok? e questa tutto sommato è anche la visione che noi abbiamo dello sviluppo i due genelli vengono identici c'è qualcosa di estremamente predeterminato e quindi in qualche modo noi ci immaginiamo che dietro tutto questo ci sia un ci siano dei meccanismi altrettanto invarianti ok? altrettanto predeterminati e di questo però appunto parleremo nel corso del corso ok? ma tornando ai nostri colori quindi la prima parte che voglio farvi qui è puramente tecnica come si fa a tracciare il lineage delle cellule? allora questi colori vanno benissimo però appunto hanno questo difetto di diluirsi nella progenie e quindi vorremmo qualche cosa che non si diluisce nella progenie che è in grado di rimanere sempre allo stesso livello cosa suggerite? cosa sarebbe meglio? quale sarebbe l'ideale? la marcatura ideale per seguire un lineaggio di cellule? scusami? far trascrivere direttamente le cellule qualcosa di particolare quindi in qualche modo modificare il loro genoma ok una mutazione una mutazione è l'ideale in effetti oggigiorno siamo arrivate delle tecniche super sofisticate in cui si fa il sequenziamento di singole cellule e andando a vedere le mutazioni o la posizione di trasposone o cose di quel tipo si possono davvero seguire degli lineari vabbè però l'ideale sarebbe appunto una marcatura genetica e il tentativo di utilizzare marcatori genetici in effetti in biologia è molto antico in biologia dello sviluppo e in realtà comincia ancora prima di questa di questa cosa qui di questa storia della signorina Le Duren ma di quella altra parte diciamo degli anni 30 ve ne parlerò però uno molto eclatante e molto moderno ancora utilizzato oggigiorno è quello delle per esempio chimere tra acquaglia e pollo la acquaglia è molto più piccola il pollo è molto più grande ma i loro tessuti sono compatibili voi potete prendere dei pezzi di per esempio tubo neurale viene fatto classicamente ma anche con altri tessuti da un embrione di quaglia staccare l'equivalente quindi si parla di trapianti omotopici trapianto omotopico è un trapianto che viene fatto da una parte nella stessa identica parte la stessa parte del donatore del ricevente del trapianto e omocronici allo stesso punto dello sviluppo e trapiantati nello stesso punto dello sviluppo ok questo tipo di trapianti attecchisce meravigliosamente come potete vedere qui avete un pulcino che ha l'ala l'ala di quaglia in realtà non è un'ala di quaglia è un'ala di pollo però che contiene dei melanociti di origine di quaglia e quindi il colore è quello della quaglia ok quindi gli animali crescono meravigliosamente e esistono degli anticorti specifici per riconoscere le cellule di quaglia all'interno del pollo ok quindi voi potete prendere dei pezzi di tessuto e vedere che cosa diventeranno dopo grazie a questa marcatura genetica in realtà qui c'è il problema di dover fare questo salto di specie diciamo ormai ci sono animali transgenici che vengono incontro rispetto a questi esperimenti di trapianti per esempio la GFP ci sono modelli in cui viene fatta esprimere in tutte le cellule in modo ubiquitario tutte le cellule esprimono la GFP sono i topi verdi ma c'è tutto maiali verdi tutti gli animali possono essere fatti fluorescenti e i conigli verdi anche insomma e ovviamente in questo caso noi possiamo fare però dei trapianti che sono fatti dalla stessa specie quindi prendiamo lo stesso animale e trapiantiamo delle cellule colorate e le vediamo e le seguiamo ok quindi questa è l'espressione animali transgenici che esprimono geni reporter allora giusto per curiosità per saggiare le vostre conoscenze di BUD voi sapete come si fa un animale transgenico? qualcuno in qualche corso precedente vi ha mai raccontato come si fa a produrre un animale transgenico? no quindi ad avere un gene esogeno che viene prodotto diventa parte di quel genoma e viene tramandato tra le generazioni si possono essere dei virus a volte si mettono anche solo gli RNA comunque l'idea scusate pezzi di cDNA l'idea è quello appunto di inserire in modo esogeno dei dei pezzi di DNA e quindi ci sono vari modi ormai per alterare ma tipo CRISPR-Cas9 ne avete sentito parlare qualcuno ve le ha raccontate queste cose qui ok la produzione di chimere da embrionali staminali modificate così così no vabbè ci penserò se ho il tempo di almeno darvi un accenno su quali sono le tecniche per fare questo comunque diciamo l'ideale è sicuramente cioè questa cosa della marcatura genetica è sicuramente l'ideale però il trapianto è una barba e comunque si tratta di staccare mettere riafficicare e non è sempre fattibile per tutto si possono è difficile insomma il controllo è relativo ok l'ideale sarebbe creare la mutazione in modo condizionale solo in alcune cellule dell'embreone che io voglio seguire ok quella sarebbe la cosa ideale allora io conosco la cellula ciccio e la cellula ciccio lì faccio avvenire una mutazione in modo specifico e poi seguo questa mutazione nella sua progenie ok questo è diciamo così il sistema ideale e questo per fare questo da un po' di anni oramai si usa il sistema CRE-LOXP sapete tutti cos'è il sistema CRE-LOXP? mai sentito? ok ricombinazione omologa? ok allora la CRE-LOXP è una ricombinasi quindi qualche cosa che che fa double strand breaks cioè taglia il DNA lo taglia a metà e lo reincolla ok e riconosce però dei siti specifici sapete ce ne sono tanti di ricombinasi in genere dovrebbe essere più o meno random il punto in cui avvengono queste ricombinazioni omologhe ma in questo caso invece abbiamo una ricombinasi che questa CRE che riconosce dei siti specifici che vengono chiamati LOXP ok ed è questa sequenza che vedete qua a cui si legano due due molecole di CRE com'è questa sequenza secondo voi orientata o no ha una direzione o è simmetrica dai chi vota per simmetrica alza la mano chi vota per orientata che timidezza ragazzi veramente a limonare andate malissimo siete troppo timidi dovete aprirvi un po' allora è orientata sì chi ha detto orientata ha indovinato ma chi ha detto non orientata limona lo stesso tutti gli altri no va bene allora questa sequenza è orientata quindi la CRE è in grado di riconoscere l'orientamento della sequenza e ricombina proprio secondo questo orientamento quindi a seconda del modo in cui vengono orientate le sequenze LOXP noi possiamo ottenere degli effetti diversi sul gene di interesse per esempio quando le sequenze si guardano una con l'altra in realtà il risultato è quello di invertire la sequenza ok l'inversione però è un modo di per esempio inattivare o attivare qualche cosa d'accordo poi vabbè ci vogliono degli accorgimenti per evitare che faccia il flip flop in continuazione però però si fa esiste questa cosa di invertire la sequenza oppure si possono fare delle traslocazioni quello che interessa a noi oggi invece è quest'ultimo la delezione in essi effetti il sistema CRELOXP è probabilmente il più utilizzato per creare mutanti condizionali quindi per eliminare un certo gene in una linea di cellule e per esempio assaggiare la funzione di quel gene in quelle cellule senza fare i knock out sapete cos'è un knock out? sapete cos'è un knock out? chi me lo dice? dai cos'è un knock out? un gene non funzionale in un animale ok quindi spegnere un gene in un animale esatto e farlo intenzionalmente va bene allora questo è un modo per ottenere questo tipo di delezione però in maniera condizionale cioè soltanto nelle cellule che esprimono questa CRE quindi l'elemento che determina dove quando ci sarà la mutazione è la presenza della CRE ed è per questo che si chiamano appunto condizionali allora questo sistema è stato adattato per seguire i lineage di cellule per seguire dei lineaggi e come si fa? innanzitutto ci vuole la CRE che possa essere fatta esprimere in tipi cellulari specifici quindi ci vuole un controllo sull'espressione della CRE e per fare questo si usano sequenze regolative del gene che prepariamo ok lo vuoi negli eritrociti e usa le sequenze dell'emoglobina se riesci a ottenerle e farle funzionare quindi si fanno dei transgeni tipicamente o dei knock-in in altri casi sapete cos'è un knock-in? cos'è un knock-in? si mette il gene ma che cosa esattamente di questo gene? no però nel senso il knock-out è quando tu spegni un gene e toglie un pezzo di DNA tendenzialmente si toglie un esone non puoi togliere tutto il gene se ne toglie un pezzo che rende la proteina non funzionante o il gene non accendibile oppure invece si può fare questo knock-in in cui le sequenze regolative sono sempre quelle ma al posto del reading frame open reading frame dove ci sarebbero la codifica degli aminoacidi diciamo così lì cambiamo il gene non esprimi più il gene che volevi ma esprimi quello che voglio io ok? te lo sostituisco quindi le sequenze regolative sono le stesse e quello ovviamente è il modo più pulito peccato che il gene però non lo esprimi più quindi è già quello anche un mutante ma vabbè ma al di là di questi problemi tecnici noi adesso abbiamo appunto la necessità di esprimere la CRE in modo specifico solo in certe cellule quindi useremo le sequenze regolative di qualche promotore che ci interessa ok? poi però vogliamo seguire un lineage quindi vogliamo qualcosa di colorato vogliamo un colorante che venga prodotto da solo dalla cellula che la cellula se lo produca che io posso vedere e che venga anche tramandato alla progenie questa capacità di produrre questo colorante anche chiamato reporter questi sono geni reporter e tipicamente si usa questo locus che è sul cromosoma 6 nel topo rosa 26 questo è nel topo stiamo parlando di topi questo locus rosa 26 è un locus che è espresso dappertutto in tutte le cellule ok? è espresso in modo ubiquitario è stato scelto apposta e in questo locus è stato inserito un genere porter la YFI ma questo genere porter normalmente o l'HZ o quello che volete M-Cherry ormai ce n'è di tutti i tipi chi più ne ha più ne metta ma comunque questo genere normalmente non è espresso perché c'è un codone di stop subito prima della sequenza ok? quindi l'RNA polimerase parte ma poi si ferma questo codone di stop però è stato messo intorno a due siti LOXP con lo stesso orientamento quindi il risultato di questa ricombinazione è una delezione il sito di stop il codone di stop viene fatto saltare via e nel momento in cui non c'è più questa mutazione ha come risultato fenotipico l'espressione di un reporter ok? che è la YFI quindi questa cellula diventa verde ma non solo lei diventa verde lei ha modificato il suo DNA è una mutazione genetica quindi anche le sue figlie diventeranno verdi ok? per esempio questo è il sistema che è stato determinato che è stato utilizzato per determinare il progenitore dei neuroni nel cervello adesso qui ne parleremo più avanti però questo scusate dimmi dimmi del genere port in realtà io se guarda un po' guarda te la faccio vedere così mi ero preparato questo disegnetto se avessi dovuto spiegare meglio allora la questione è questa tu hai la cre che viene espressa sotto un particolare gene quindi non sono tutte le cellule esprimere la cre solo alcune cellule esprimono la cre e qui ti disegno solo questa va bene mi scusi se non ti disegno quelle senza cre va bene se no si può fare anche facilmente con un copia e incolla guarda così la mettiamo qui no va bene la facciamo stare faccio casino ok la cre viene espressa lei è una proteina nucleare gira per il genoma finché trova le sue sequenze target ok prende tutto questo lo toglie no in realtà questo rimane scusate va bene ma comunque insomma prende questo lo toglie e ricuce ok questa cellula esprime GFP e quindi diventa guarda che bello vediamo se lo so fare dico proprio dove boh ma da qualche parte c'è non importa va bene insomma e questa cellula diventa verde ok scusami sì la GFP fa parte del genoma ok c'era già però era preceduta da questo codone di stop che ne impediva l'espressione quindi la maggior parte delle cellule non esprime la GFP perché c'è questo codone di stop che impedisce l'espressione del reporter è chiaro? esatto quindi quando c'è la CRE la CRE la cosa che fa è creare questa mutazione in automatico lo fa subito ok e vi faccio vedere l'esempio ok dai ragazzi dobbiamo diventare un po' dovete prenderci la mano perché la biologia è tutta fatta di queste cose qui allora la CRE ricombina il codone di stop e il promotore e il genere porter parte e vi faccio vedere un esempio in realtà in questo caso il genere porter è la beta-galactosidasi che è un enzima a cui sappiamo dare un substrato che lui trasforma in un colorante blu e quindi vediamo blu le cellule che esprimono la beta-galactosidasi ok è stato messo la CRE sotto il promotore di questo gene si chiama blbp a noi non ce ne frega niente di chi è blbp adesso ci interessa solo che blbp è espresso solo da alcune cellule alcune cellule che si trovano nel cervello embrionale e vogliamo vedere che cosa succede a quelle cellule e ai loro figli ok quindi prendiamo le regioni regolative qui abbiamo scritto promoter in realtà sono degli enhancer ma comunque prendiamo le regioni regolative del blbp ci mettiamo la CRE quindi la CRE viene là dove blbp sarebbe espresso c'è un macchinario di fattore di trascrizione che attiva queste sequenze regolative e questo attiverà la blbp ma anche il nostro gene spia dimmi ma perché io posso far esprimere CRE ad esempio che mi interessa il reporter sì questo lo potresti fare però tu dovresti trovare un sistema di trasfettare in modo specifico tutte le cellule che esprimono quel gene perché in questo caso noi usiamo le sequenze regolative del gene che mi interessa tutte le cellule che esprimono la blbp ok perché se tu metti blbp bp gal un'ottima domanda ok perché non possiamo fare a questo punto se mi interessa il progenie e il destino di queste cellule che esprimono blbp io faccio questo passaggio doppio e non metto direttamente il reporter qua che ne dite vi convince se la cellula non esprime più blbp vedete se la cellula da origine ha una cellula figlia che non esprime più quei geni vi ricordate il trascrittoma che lentamente si modifica ok i geni espressi dalle cellule figlie non sono necessariamente gli stessi geni che esprimevano le cellule madri ok quindi se blbp viene spento mi si spegne anche il reporter e io non lo vedo più ok io invece voglio una mutazione permanente che rimanga lì indipendentemente dai geni che esprimeva la madre io voglio modificare il dna di quella cellula e poi qualunque cosa diventi la cellula figlia che esprima blbp non esprima blbp è un globulo rosso qualunque cosa io voglio vedere il colorante lì in quel caso si tu potresti usare il geni reporter ma se viene spento e io ti dico per esempio questo è il caso in questo caso blbp viene spento e anzi questo lo rende anche un buon gene per seguire questo lineage io voglio avere un evento di mutazione che sia in quel momento in quella cellula e in quel momento dello sviluppo e poi dopo poterlo seguire ok ma lo vediamo adesso in degli esempi specifici guardate questo esempio qua le cellule blbp esprimono la cre la cre va nel nucleo ricombina questo codone di stop e fa partire il reporter che cosa succede a questo reporter ops voilà allora a e9.5 questo è un cervello embrionale l'espressione del reporter inizia a essere osservata ok la cre ha tolto questo codone di stop queste sono le cellule che esprimono blbp ok ok blbp però te lo dico io va giù subito scompare rapidamente specialmente nella progenia di queste cellule che sono per l'appunto i neuroni allora quando tu vai a vedere il cervello di questa bestiola tu trovi un sacco di neuroni che non esprimono blbp che non hanno la cre ma si portano dietro quella mutazione perché perché la loro madre era blbp positiva e quindi esprimeva la cre ok tutti questi neuroni che vedete sono diventati blu l'espressione di questo reporter ok ce l'hanno perché la mutazione è avvenuta all'inizio dello sviluppo nella loro madre che esprimeva quel particolare gene ok quindi questa espressione di questo reporter non è dovuta all'espressione del blbp del gene originale ok ma è una mutazione che si è tramandata nel lineage d'accordo questo è un modo di seguire un lineage con un piccolo difetto che la cre quando c'è c'è e ricombina e molto spesso i geni invece ci sono magari lungo tutto il lineage è difficile trovare un gene che ci sia solo nella madre e non c'è nei figli ok o comunque può essere un pochino complicato o forse noi vogliamo andare a vedere solo certe fasi allora ci piacerebbe avere un pochino più di controllo sulla attività della cre quindi adesso abbiamo l'espressione della cre solo nelle cellule che ci interessano utilizzando queste sequenze regolative di geni specifici adesso però vogliamo di più vogliamo anche poter dire alla cre quando andare a fare la mia mutazione ok quindi stiamo parlando quella di prima era una mutagenesi condizionale cioè condizionata dalla presenza della cre adesso vogliamo di più e vogliamo la mutagenesi condizionale inducibile in cui la cre è lì è espressa nella cellula che mi interessa grazie alle sequenze regolative che io mi sono scelto ma non è funzionante non ricombina e perché non ricombina lei come va nel nucleo non ci pensa due volte e taglia non ce la può fare la sua la sua natura è tagliare vuole tagliare e quindi noi dobbiamo tenerla fuori dal nucleo come si fa è stata utilizzata una proteina di fusione in cui la cre è stata fusa con un recettore degli estrogeni un pezzo di un recettore degli estrogeni sapete come funziona la segnalazione degli estrogeni? qualcuno ve l'ha mai raccontata? eh? come funziona dove sono i recettori degli estrogeni? nel nucleo o nel citoplasma? nel citoplasma e quando arriva l'estrogeno? vanno al nucleo ok? ok quindi questo in realtà è un sistema modificato ierti tu poi ne esistono anche altri tipi ma comunque questo è un sistema modificato in cui in realtà questo recettore risponde solo ad un estrogeno artificiale che si chiama tamoxifen quindi è un farmaco io ho un farmaco che attiva la cre ok? e per questo anche vediamo un attimo vi ho preparato questo mi interessa che lo capiate perché oggi lo vedremo più nel dettaglio ok? allora la mia idea per schematizzarvi di questa cosa è questa del mettere la cre al guinzaglio dell'ierti tu quindi questo è l'ierti tu quindi il recettore degli estrogeni che mi tiene la cre nel citoplasma è chiaro? non può andare al nucleo e quindi non ricombina un bel niente io posso decidere quando va al nucleo e faccio un bel beverone si fa si possono fare delle punture ma si può fare anche il cosiddetto gavage di faccio questo bel beverone di tamoxifen il tamoxifen qui è schematizzato con questo cappellino non sapevo cos'altro mentre comunque insomma il signore non va al palco se non ha il cappello perché è un signore elegante ok comunque arriva il tamoxifen in realtà non è proprio così il tamoxifen crea il distacco da delle proteine ma non importa a noi interessa solo il concetto che quando arriva il tamoxifen allora la creva al nucleo ok quindi io con un farmaco attivo la crea quindi di nuovo la crea sarà sotto il promotore specifico solo certe cellule la esprimono ma lei non è sempre attiva lo decido io come e quando ok e questo si chiama mutagenesi condizionale inducibile poi il tamoxifen ovviamente rimane in circolo per un po' appena viene lavato via insomma dal circolo sanguigno la nostra crea si trova senza cappello spaventata torna a casa un mio tipo non voglio che nessuno mi veda così e si torna nel citoplasma ok quindi questo è un modo per avere un controllo temporale ok quindi abbiamo il controllo del tipo di cellula utilizzando il promotore quindi noi usiamo dei promotori specifici per decidere quale tipi di cellule esprimeranno e in questo possiamo anche inserire un controllo spaziale quindi possiamo decidere chi e dove e anche quando un controllo temporale utilizzando questo bocchetto della proteina di fusione crea iertitude ok è chiaro vedremo ancora degli esempi ma voglio che intanto sia chiaro dimmi e sempre il crea iertitude come era prima per la crea mettiamo delle sequenze regolative specifiche cioè quella proteina verrà espressa sotto il controllo di certi enhancers che sono controllati da certi fattori di trascrizione che ci sono solo in certe cellule e questo sta a me ok sceglialo tipo blbp è un buon gene però io posso decidere vediamo qual è la progenie delle cellule che esprimono blbp all'inizio dello sviluppo o alla fine ok perché altrimenti appena blbp parte la cre parte invece in questo modo blbp fa partire il creertitude la crea e lì è pronta ma quando ricombina lo decido io dandogli il farmaco che l'attiva ok allora ok e vabbè questo qui era diciamo la parte teorica solo per iniziare in realtà poi vedremo e per non interrompermi troppo in quello che voglio dirvi adesso ok allora questo sistema di seguire i lineage di seguire i fate viene utilizzato nello sviluppo viene utilizzato in molti campi e adesso noi cercheremo di entrare di seguire un po' fate e potential i diversi lineage cellulari ok prima però di addentrarci nella biologia dello sviluppo volevo raccontarvi volevo farvi vedere un pochino o introdurvi il concetto delle cellule staminali ok ovvero le cellule madri perché questi lineage sono tutti derivati da cellule madri e che cosa sono queste stem cells ovvero le cellule progenitrici quindi la cellula rotola giù dal pendio di waddington noi vogliamo capire come funziona questo rotolare ma in realtà nel mezzo ci sono delle cellule madri l'abbiamo visto l'altra volta quelle che abbiamo mettevamo in questo stato metastabile e che cosa sono queste cellule staminali in realtà il concetto di cellula staminali viene soprattutto visto nell'adulto è un concetto che viene dai tessuti adulti e in effetti oggi ci fermiamo ci soffermiamo un attimo sugli adulti poi andremo agli embrioni a breve ok e questo dovreste saperlo tutti lo conoscete il signor Bizzogzero non era uno zozzone era solo il suo cognome il signor Bizzogzero aveva classificato quindi già nell'ottocento si sapeva che alcuni tessuti si rinnovano i tessuti appunto sulla base della capacità di fare turnover cellulare e anche della capacità rigenerativa quindi c'erano i tessuti labili stabili e perenni i tessuti labili in particolare hanno delle componenti cellulari che anche dopo la fine dello sviluppo però continuano a mettere in atto processi di sviluppo cioè continuano a produrre nuove cellule l'epidermide il sangue ci sono molti tessuti che vanno incontro a questi processi di sviluppo nell'adulto ok e appunto questo lo vediamo molto bene nell'adulto ma in realtà il concetto di staminale è estendibile all'intero sviluppo fin dalla cellula uovo le pluripotent stem cells così le chiamiamo anche embryonic stem cells sono quelle appunto dell'inner cell mass ok e vabbè questo ve l'ho già fatto vedere l'altra volta anche la barzelletta lasciamo a prendere allora vabbè questa pari del se volete nel senso il concetto di che cos'è una stem cell secondo me è anche importante che voi signori biologi ce l'abbiate un pochino presente ok perché la stem cell e l'eldorado ci sono venditori di fumo ok che l'hanno utilizzato questo nome che in realtà è un nome creato dall'uomo siamo noi che abbiamo creato il termine stem cell per vendere terapie miracolose e sicuramente c'è super speranza però anche grande confusione cioè se tu vai a chiedere che cosa pensa la gente che sia una stem cell molti pensano che sia un'unica cosa tanto per fare un esempio ok e questa barzelletta in realtà lo schematizzavo già dieci anni fa c'è un signore che chiama il dottore 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 sto tanto male sto tanto male vabbè prenditi due stem cell poi mi chiami domani mattina e ci sentiamo domani vabbè a me faceva ridere comunque nell'idea che appunto le stem cell saranno la panacea ci cureremo tutti a stem cell le compriamo in farmacia e ce le beviamo al mattino le mettiamo le tempe ok ma no in realtà no non è così e anzi che cosa sono queste stem cells allora le stem cell sono appunto cellule che mantengono la capacità di funzionare da progenitori quindi di avere dei lineage di dare origine a delle discendenze quindi fanno da cellule madri e le distinguiamo sulla base del loro potenziale ok e questa in realtà è una classificazione già abbastanza grossolana quindi c'è la cellula totipotente che sarebbe l'ovocita viene inserita in molti libri a me sembra un po' una stupidaggine questa non è una grande stem cell perché ha self renewal va maluccio poi ci sono sapete cos'è il self renewal auto mantenersi questa è una cellula che si perde subito no? se deve essere la fonte dell'eterna giovinezza questa l'abbiamo persa subito ok poi ci sono le cellule invece pluripotenti queste sono le cellule della inner cell mass queste cellule qui dandogli i giusti fattori di crescita possiamo tenerle in vitro indefinitamente e trattandole con i fattori giusti indirizzarle verso praticamente tutti i destini cellulari muscolo neuroni sangue tutto quello che volete ok vengono utilizzate tantissimo ed è anche per questo che c'è un sacco di polemica perché ovviamente vengono fuori dagli embrioni quelle che otteniamo traspettando con SOX2 eccetera sono di questo tipo qui quindi in realtà noi possiamo utilizzare delle cellule pluripotenti prendendole anche da tessuti adulti ok e poi però ci sono delle cellule diciamo con un potenziale più ristretto nel senso che i tipi di cellule a cui danno origine le categorie di cellule a cui danno origine sono meno e che troviamo invece in tutti i tessuti e sono ci sono anche nel tessuto nervoso in realtà non le metterei come le più famose forse scusate sono io che studio queste quindi ci tengo le infilo sempre diciamo forse l'epidermide l'intestino ci sono tessuti più famosi ok e comunque le troviamo in diversi distretti del corpo allora si tratta di cellule diverse sono tipi cellulari diversi che però noi a beneficio del pubblico e anche forse dei nostri libri di testo inseriamo in un unico grande categoria e quindi cercando di generalizzare il modello di cellula staminale ok identifichiamo cellula staminale come una cellula in grado di fare self renewal che vuol dire automantenersi quindi non perdersi mai deve esserci una fonte che si mantiene e allo stesso tempo però produrre anche progenie differenziata quindi ci deve essere questa asimmetria di destini adesso io ve le ho messe volutamente così rotonde che flottano nell'etere biologico proprio per darvi l'idea di qualcosa di estremamente teorico d'accordo? molto teorico però è un modello che viene appunto dopo averne visti diversi ok in realtà la cellula staminale quello che si si è visto nei diversi modelli in genere non dà direttamente origine a progeni differenziate ci sono una serie di passaggi attraverso cellule che si dividono moltissimo che sono attivamente proliferanti e che sono diciamo la matrice germinativa più evidente nelle regioni che appunto si rigenerano oppure che vanno incontro a turnover fisiologico e che vengono chiamate transit amplifying cells cioè cellule di amplificazione transiente e qui siamo sempre ragazzi in un modello idealizzato e adesso vedremo da dove è stato creato questo modello perché se no non lo capiamo l'idea è che la cellula staminale tendenzialmente debba dividersi poco questa è un'idea piuttosto discutibile vi dirò però in molti casi effettivamente si vede che è così la cellula staminale si divide non troppo e da origine però ha dei questi transit amplifying cells che sono cellule che in qualche modo amplificano il progetto quindi produce un seme e questo seme si sa automoltiplicare per formare una foresta ok però che tipi di alberi l'aveva deciso la cellula staminale mettendo questo semino vai ok e ci sono casi in cui questo succede ovviamente la cellula staminale però non si deve perdere quindi ci deve essere una asimmetria e il modo più semplice per immaginare tutto questo il modo in cui c'è questa asimmetria cioè da una parte mantengo la cellula staminale e dall'altra produco cel progeni differenziata è la mitica divisione asimmetrica ok cioè quando la cellula si divide in modo ineguale da un lato rimane la fonte dell'eterna giovinezza e tutti i fattori che ci permettono di rimanere giovani per sempre e continuare a dividersi per sempre dall'altra parte invece si rotola giù dal pendio ok quindi qui si mantiene in qualche modo il potenziale se immaginate il pendio di Waddington c'è qualcuno che mantiene un potenziale più alto nelle due divisioni come se si dividesse sempre sulla cima di un monte il gallo fa l'uovo la sapete come se si dividesse sulla cima di un monte e una cellula rotola giù e l'altra rimane su ok questa si chiama divisione asimmetrica oppure vi viene in mente anche un altro modo in cui noi potremmo ottenere questo stesso effetto dai ti vedo caldissimo oppure si esatto siete d'accordo? vi piace? lui dice potremmo fare due divisioni diverse una volta ti dividi per dare origine a due staminali e una volta ti dividi per dare origine a due progetti differenziali ok a seconda dei casi e in effetti anche questo succede opla diciamo esiste una visione quindi esiste un un modello diciamo così gerarchico in cui la cellula staminale però è un po' a rischio perché rimane solo a soletta ok cioè se quella cellula muore dividendosi solo in questo modo come facciamo a ripopolare il pool? d'accordo? quando una si perde si è persa perché poi le altre tutte le volte che si dividono non producono nuove cellule staminali e il pool va in esaurimento in effetti esiste anche quest'altro modo di dividersi quella simmetrica in cui appunto in questo modo espandiamo il pool di staminali oppure un altro tipo di divisione simmetrica invece in cui dipletiamo il pool di staminali ok e secondo il modello questo secondo modello questi due eventi potrebbero essere regolati da un sistema stocastico 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 già non ci piace basta lo sviluppo il disegno intelligente lo sviluppo non può basarsi su sistemi stocastici i due gemelli sono identici non ci può essere un meccanismo stocastico non lo so lo vedremo proviamo ad entrare un pochino più nel dettaglio sperimentale ok fine della teoria lo so è stata lunga ed entriamo nella pratica allora appunto ci sono da qualche parte queste cellule queste cellule flottanti nell'etero biologico e noi vogliamo riuscire a capire quali sono le loro proprietà il modo in cui si dividono il modo in cui danno origine a della progenie e esiste un sistema che è forse il primo a essere stato ben identificato in cui questa cellula staminale è stata proprio identificata la conosciamo per nome per cognome ed è il sistema appunto ematopoietico della cellula staminale ematopoietica cioè quella che si trova nel midollo rosso e che dà origine a tutte le cellule del sangue allora com'è che è stata inizialmente identificata questa cellula comunque si è capito vagamente come poteva funzionare beh ci fu un esperimento negli anni 60 fatti da questo McCulloch e Till di trapianto quindi tu trapianti queste cellule e vedi un po' cosa combina e loro cosa facevano essenzialmente le trapiantavano nel fegato di un altro animale no scusate nella milza di un animale ricevente ma che cos'è che facevano avevano capito che c'era bisogno di una marcatura genetica per seguire un lineage di cellule e non avevano la cre non avevano tutte queste cose qua nei mammiferi non c'erano gli animali diciamo colorati o quaglia queste cose qui erano un pochino più complicate loro che cosa fanno hanno irradiato le cellule cioè l'idea era comunque quella cos'è una una marcatura genetica una mutazione va benissimo e si è molto evidente tipo traslocazioni cromosomiche qualcosa di molto evidente che si può vedere semplicemente colorando i cromosomi ancora meglio e quindi loro trapiantavano queste cellule nella milza vedevano crescere questi blob e andando a guardare le mutazioni cromosomiche che le cellule di questi blob che erano cresciuti nella milza si portavano dietro potevano dire questi sono dei cloni ok queste sono cellule che sono derivate dallo stesso progenitore che aveva quella mutazione ok quindi in qualche modo riescono a dire che c'è una cellula adulta che è in grado di creare una progenie clonale e la cosa figa è che in questi però tipi di cellule in questi blob loro trovavano cellule di varie linee c'erano sia la linea mieloide che la linea linfoide ok adesso ve la faccio molto breve se lo sapete l'avete studiato da qualche parte l'ematopoiesi si da qualche parte immunologia non so qualcosa del genere comunque sapete che esiste appunto una cellula staminale e in questo caso è proprio l'ideale la cellula sogno l'ape regina c'è una cellula e anzi per molto tempo si è pensato che fossero pochissime c'è una cellula che si divide rarissimamente e questa cellula dà origine a tutta una serie di cellule che poi diventano prendono strade differenti ok quindi un grandissimo potenziale questa singola cellula è proprio come un sistema questo è proprio come un sistema di sviluppo ok dalla cellula dalla cellula ematopoietica staminale ematopoietica originano appunto tutte queste linee ok ma come è stato possibile in qualche modo definire capire chi era questa cellula e definirne le proprietà in realtà di nuovo farlo in vivo non è facile essenzialmente si sono utilizzati i trapianti fino a pochissimo tempo fa anzi ancora viene fatto ovviamente il trapianto di midollo è una cosa che interessa perché ha un riflesso sulla salute pubblica quindi che cos'è che veniva fatto venivano isolate delle cellule del midollo rosso utilizzando il fax sapete cos'è il fax? non serve per mandare dei messaggi il fax sorter fluorescence activated cell sorter mai sentito nominare? mai sentito nominare? ok ragazzi questo però è uno strumento base per i biologi e no adesso non c'è tempo di raccontarvi com'è il fax sorter comunque è una macchina che è in grado di leggere diciamo così molecole di superficie che noi a cui noi leghiamo con degli anticorpi delle molecole fluorescenti quindi utilizziamo degli anticorpi per marcare degli antigeni di superficie e questa macchina è in grado di isolare le cellule di separare le cellule di fare il sorting è una macchina che sorta le cellule sulla base di quello che esprimono in termini di superficie e la nostra cellula staminale matopoietica a forza di stargli dietro adesso la conosciamo la conosciamo molto bene proprio dal punto di vista dei marcatori molecolari è una delle pochissime cellule staminali di cui sappiamo la carta d'identità siamo in grado di isolarla in questo modo ok quindi queste cellule vengono isolate quindi si isolano diversi tipi di cellule del midollo rosso e poi trapiantate in topi irradiati quindi in topi in cui abbiamo distrutto il sistema ematopoietico ok allora che cos'è che si è scoperto andando a trapiantare diverse categorie di cellule che si trovavano nel midollo spinale essenzialmente che esiste tutta una gerarchia un modello meravigliosamente gerarchico quindi vengono isolate vedete vedete questi sono i marcatori tipici di questa ognuno ha i suoi marcatori tipici siamo in grado di isolarle in modo specifico e di trapiantarle in topi irradiati e poi si va a vedere se il topo sopravvive è stata questa cellula lo guardi e dici vediamo come sta ma a volte si è stato trapiantato addirittura una sola cellula ok e questo che è veramente incredibile di questo sistema veramente la peregina allora che cos'è che si è scoperto ci sono alcune cellule che quando le trapianti ripopolano l'intero sistema per sempre quindi l'animale ci mette un po' a recuperare ma poi è a posto tutte le linee linfoide mieloide megacariociti piastrine eritrociti tutto a posto ok trapiantando singole cellule e per sempre nello stesso tempo però si possono trapiantare alcune cellule che invece ripopolano il sistema ma solo per un po' quindi hanno lo stesso potenziale differenziativo ma non fanno unlimited cell renewal queste vengono chiamate short term ematopoietic stem cells queste cellule la cosa interessante è che in vivo le cosiddette long term ematopoietic stem cells si dividono pochissimo quasi mai una volta ogni 50 giorni una cosa del genere ok quindi stanno qui escenti per due mesi e ogni tanto si dividono dando origine a una short term questa short term poi si divide dando origine a tutto il resto ok in realtà adesso non ve la faccio lunga sugli ultimi sviluppi però diciamo il modello che ne viene fuori è un modello estremamente gerarchico quindi c'è la cellula staminale che si mantiene lei è la principessa la perigina non si divide mai ok ma sta lì a ripopolare il suo lineage ogni tanto da un semino per cellule che si dividono un po' di più quindi la short term si divide un po' di più un po' più spesso e man mano che andiamo giù in questo lineage l'attività proliferativa aumenta sempre di più perché ovviamente poi gli eritrociti prodotti sono miliardi adesso non so più al giorno ci sono quantità enormi d'accordo e quindi l'amplificazione che c'è tra questa singola cellula e i miliardi di eritrociti deve essere enorme e questa gerarchia sembrerebbe permetterci di ottenere questa grandissima amplificazione mantenendo il potenziale in cassaforte ok con la principessa che non si divide mai non è la perigina la perigina è una fattrice pa 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 caga uovo ogni 5 minuti la staminale matopoietica è più principessa si divide solo ogni tanto ma il concetto di nicchia lo andiamo a vedere ok in realtà questo questo è un modello che è stato potentissimo che è stato molto forte e tutti gli altri sistemi staminali si è in qualche modo cercato di vedere se corrispondevano a questo modello quindi una cellula staminale che si divide poco e che dà origine a cellule che hanno un potenziale via via più ristretto ma una capacità proliferativa maggiore ok uno schema che sembra molto logico e sembra funzionare ma adesso proviamo a vederlo più nel dettaglio ok siete vivi? allora modello numero 2 il testicolo di idrosofila ah forte avevate voglia di un po' di testicoli di idrosofila in realtà effettivamente fatemi solo introdurre il concetto di nicchia dai qualcosina ve lo devo dire che cos'è la nicchia? cioè queste cellule staminali in realtà non flottano nell'etere biologico d'accordo? non è chiaro da dove prendano il loro potenziale come mai quella cellula ha questo potenziale la cellula staminale mantiene questo potenziale e le cellule figlie lo perdono ok sicuramente ci può essere qualcosa di intrinseco io faccio la divisione asimmetrica e tutti gli elisir della giovinezza li metto da una parte e la cellula e la figlia gli diamo invece così un po' di spazzatura per fare il differenziamento questo potrebbe essere però c'è anche un elemento appunto legato alla nicchia cioè la cellula staminale in genere non è sparsa nel nostro corpo ma risiede in dei microambienti particolari che ne regolano lo sviluppo e la funzione e la funzione ok quindi in genere si trova agganciata a qualche cosa o insomma ci sono dei posti particolari che vengono chiamati nicchie sono il microambiente che regola appunto la loro attività e in qualche modo anche gli conferisce il loro potenziale molte delle cellule staminali fuori dalle loro nicchie non funzionano più differenzia ok ma vediamo perché il testicolo di idrosofila è un modello così figo perché vi dicevo molto spesso nella massa di cellule di un tessuto è difficile capire chi è la cellula staminale specialmente se la birichina si divide poco e io come faccio a distinguere adesso come faccio a sapere se quella è postmitotica o solo una che si divide malvolentieri non è semplice ok quindi identificarla trovarla per davvero la cellula staminale non è per niente semplice invece il testicolo di idrosofila la cellula staminale è lì è in vista ti saluta e si fa guardare ok perché il testicolo di idrosofila è una specie di tunnel a fondo cieco al fondo c'è una zona che viene chiamata hub e il differenziamento avviene appunto lungo questo tubulo quindi man mano che vai verso la fine del tubulo trovi spermatociti maturi spermatozoi maturi e invece tornando indietro come nel tunnel del tempo ripercorri indietro la vita degli spermatozoi ne trovi sempre di più maturi sempre di più maturi sempre di più maturi sempre di più maturi finché qui sulla punta c'è la cellula staminale oh questa è comoda perché la vediamo subito e in effetti viene studiata da un sacco di tempo quindi vabbè questo è semplicemente un altro schema la spermatogenesi avviene in modo molto simile a quello che poteste avere studiato nei mammiferi vi ricordate? che ci sono questi spermatogoni che rimangono appiccicati con dei tunnel che ci sono dei canali di citoplasma sono tutti attaccati tra di loro quindi questo è ancora più figo perché i cloni non si separano i fratelli i figli di una stessa divisione rimangono fisicamente agganciati tra di loro con i loro citoplasmi comunicanti ed è la cosa che viene schematizzata qua vedete la stem cell si divide per dare origine a quelli che chiameremo dei transit amplifying cells quindi questa è la fase di amplificazione ed è tutto lì sotto i nostri occhi e possiamo anche capire dove ci troviamo semplicemente guardando il punto ok? quindi qui sulla punta queste cellule questo cerchio di cellule queste sono le stem cells ok? e possiamo ucciderle e vedere che tutto finisce se tu uccidi quelle cellule niente più spermatozoi è molto semplice verificarlo e in effetti queste sono tra le primissime cisterniali che sono state identificate e che era possibile manipolare proprio grazie alla loro posizione anatomica caratteristica ok? quindi loro danno origine a questi gruppi di cellule che poi si moltiplicano dando origine a tutti questi spermatozoi in questo schemino lo vedete un pochino meglio allora le cellule staminali nel testicolo di drosofila sono attaccate a questo gruppetto di cellule somatiche che viene chiamato hub ok? queste gsc appunto sono le cellule staminali delle gonadi e quando si dividono si dividono in modo asimmetrico il fuso mitotico si orienta appunto in questo modo perpendicolarmente alla superficie di contatto con l'hub e la cellula quindi la cellula staminale rimane sempre nella nicchia e la cellula figlia viene sbottata fuori casa questo è il modo più semplice per far sì che la staminale rimanga sempre lei a casa io rimango qui ciao tesoro ciao 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 quindi tutte le volte che si divide si divide in modo asimmetrico e butta fuori la figlia il destino suo è segnato dall'essere stato buttato in questo flusso che poi la porterà fuori come spermatozoo ok e però appunto vedete questi gonioblasti poi iniziano a dividersi e a creare questi gruppi di cellule che poi a loro volta faranno lameiosi e daranno origine a un sacco di spermatozoi la spermatogenesi è un altro di quei modelli di quei sistemi in cui c'è una grandissima amplificazione ok per ogni divisione staminale vengono prodotte masse enormi di spermatozoi e speriamo bene o male non lo so dipende dai punti di vista ok queste cisti poi scusate ognuno di questi gonioblasti in realtà è circondato da una cellula chiamata cellula delle cisti che gli sta intorno e anche quello in realtà è un sistema staminali perché ovviamente ci sono tante cisti vabbè ma questo in realtà le cisti adesso cerchiamo di lasciarle da parte per un momento ok quindi abbiamo questo cerchio dei boy scout di cellule staminali e la cellula che è agganciata al lab questo è stato possibile dimostrarlo è sempre una staminale e queste cellule sono agganciate sono caratteristiche esprimono dei marcatori caratteristici vedete questo vasa cercate di guardare qua perché voglio che capiate questo è un sistema dove la cellula staminale si vede e quindi io cercherò adesso di farvi vedere alcuni esperimenti per farvi vedere che cosa succede cercando di manipolarle quindi cercate di farvi un attimo l'occhio su come sono fatti allora questo è lo schema questa è l'immagine reale quindi abbiamo l'ab che avrà i suoi marcatori specifici per esempio questo arm ce lo fa vedere in blu spegniamo la luce ragazzi effettivamente voi non vedete è un capperino dove si spegne la luce qua vai vai facciamo il buio non limonate almeno aspettate un attimo prima puntate un occhio all'immagine ok musica no allora allora vedete questo arm questo è l'ab queste sono le cellule della nicchia della nicchia le cellule vasa sono queste qua staminali sono queste qua agganciate alla nicchia in realtà in effetti vasa è espresso anche da qualcun altro ok e come potete vedere le cellule della nicchia esprimono questa caderina e le caderine e le caderine mediano un tipo di legame omosessuale omofilico ok scusa non si è più bene omofilico che vuol dire riconoscono molecole uguali sull'altra cellula e in effetti le nostre cellule dei gonioblasti esprimono un po' di caderine che però qua non vedete perché sono tutte dal lato del lab ok quindi lì ci sono delle giunzioni aderenti e in questa giunzione aderente da qualche parte in questo contatto magico c'è la fonte dell'eterna giovinezza ok quindi l'eterna giovinezza la capacità di fare sempre nua viene proprio conferita da questa da questo contatto se noi questo contatto lo eliminiamo per esempio agendo sulla caderina E è niente più spermatozoi il sistema si spegne d'accordo se stacchi la cellula staminale dal lab la fai differenziare ok però ovviamente ci sono poi tutta una serie non basta tenerla appiccicata lì da questo contatto devono passare alcuni segnali cellulari che mantengano la nostra cellula indifferenziata quindi che la mantengano ad un potenziale più elevato che le impediscano di differenziare e adesso voglio farvi vedere proprio come questo non scendere lungo il pendio è un succede in modo attivo cioè ci sono dei fattori che impediscono alla nostra cellula di differenziare e le permettono di proliferare e si tratta essenzialmente di due vie principali di segnalazione una passa attraverso questo decapitaplegic che è essenzialmente una BMP l'avete studiata le BMP a livello intracellulare si legano a oh mio dio lo sapevo a cosa si legano le BMP segnalano attraverso le potete anche sbagliare macchinasi sì o no dai macchinasi sì o no votate dai chi se ne frega l'esame è scritto ragazzi non mi interessa macchinasi sì o no no ok stat le proteine stat ve le ricordate tgf beta BMP anche con tgf beta tgf beta attraverso chi segnala le le sma le smad pensavo che ci fate le smart allora va bene le smad esatto mentre invece e poi c'è un'altra invece più cito kin like questa UPD che che segnala attraverso jack e stat e queste due vie di segnalazione di nuovo lo possiamo dimostrare con dei mutanti sono fondamentali per mantenere la cellula nel suo stato staminale in particolare queste smad queste smad che voi sappiate hanno qualcosa a che fare con la trascrizione dei geni vanno al nucleo vanno al nucleo si possono e come ok e questa via di segnalazione in effetti ha un effetto trascrizionale molto importante che è quello di reprimere questo gene BAM e il gene BAM è uno di questi interruttori del differenziamento in termini di spermatocita ok cioè quando BAM si accende e lo potete dimostrare esprimendolo in modo ectopico quando BAM si accende la cellula fa partire un differenziamento in senso astrocita scusate spermatocita quindi quello di reprimere BAM nella cellula staminale è fondamentale BAM non deve partire altrimenti si rotola giù dal pendio questa è la spintarella giungo al pendio ed effettivamente la cosa curiosa è che se voi andate a vedere questa divisione asimmetrica ok la cellula staminale che mantiene l'eterna giovinezza e sua figlia la via delle stat e la via delle BMP sono accese nella madre ma non sono spente nelle figlie e automaticamente BAM va su ok questa è una divisione super asimmetrica la cosa che a me lascia un po' lì se devo dirvi la verità è il fatto che questi fattori UPD e DPP siano attivi qua e non qua quanto è lunga una cellula no? scusate un po' ma questi TGF beta citochine che tipo di molecole sono? com'è che segnalano? hanno dei recettori sulla membrana e quindi chi vuole utilizzarle per segnalare qualcosa ad un'altra cellula deve fare della la cellula che produce TGF beta poi come lo fa arrivare alle cellule target? eh? lo secerne siete d'accordo? ci sarà un esocitosi no? e le molecole piccole proteine solubili nell'ambiente extracellulare cosa fanno? di? diffondono e andranno un po' dove gli pare giusto? ma è e quanto poco diffondono? viene da chiederselo no? è possibile che io secerno una molecola un fattore paracrino alcuni endocrini eccetera eccetera e stimolo questa e l'altra no? cos'è che vi viene in mente? come potrebbe essere questo? avete mai visto dei casi di segnalazione a brevissimo raggio? per esempio a contatto però con molecole di membrana no? quando tu dici segnalazione via contatto la prima cosa che pensi è una molecola di membrana molecole trasmembrana se invece c'è una segnalazione con molecole secrete sarà a lungo raggio però vi dirò che c'è un caso famosissimo di molecole secrete che sono a super corto raggio la? la sinapsi nei neuroni? guarda un po' si usano questi tipi di segnalazione chissà perché e in realtà per cercare di capire se potesse esserci qualcosa del genere anche in questo modello in effetti è stato fatto questo ve lo faccio vedere è un po' una curiosità però secondo me interessante è stato creato un recettore perché non è facile voi avete visto tutti questi schemi che vi ha fatto la professoressa Perotto la molecola il recettore bla 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 ma come si fa a vedere la molecola che lega il recettore? dov'è che lega il recettore? dove va questa molecola? quello è molto più difficile seguire una molecola che diffonde e vedere dove cavolo va a legarsi e dov'è il suo recettore come funziona eccetera eccetera è una cosa veramente complicata questa è una frontiera della biologia è qualcosa che ci sono moltissimi laboratori che stanno cercando di farlo e non è semplice in realtà ci sono alcuni trucchetti ingegnosi che adesso permettono di fare questo e per esempio qui vedete questo recettore TKV questo è un recettore di questo decadventa plegic questa BMP like allora questo recettore è stato modificato appiccicandogli una proteina fluorescente però sapete la proteina è fluorescente a seconda di com'è il suo folding a seconda di com'è foldata d'accordo? e nel recettore così com'è normalmente in realtà esiste un'interazione all'N terminale che così storge un po' la proteina e questa non è fluorescente ma voi sapete che i recettori quando ricevono il segnale tipicamente cosa succede? negli recettori tirosinachinasi per esempio o anche in altri arrivano eh? dimerizzano e questa dimerizzazione causa una fosforilazione e il fosforile è diciamo in una proteina un elemento importante di destabilizzazione tutta la sua carica il volume eccetera eccetera e quello che succede in effetti a questo recettore è che quando viene fosforilato l'N terminale si sgancia la proteina folda correttamente e diventa fluorescente quindi io a questi signori hanno trovato un modo di fare accendere una luce fluorescente nel momento in cui il recettore è attivo è stato fosforilato ok? quindi il recettore inattivo non è fosforescente quando si attiva diventa fosforescente fluorescente scusate e in questo modo io posso vedere dove è attivato il recettore e guarda un po' in questo caso tra l'altro della via specifica di questo decaventaplegi se io vado a vedere in effetti trovo dei punti che ricorderebbero quasi le sinapsi in cui c'è l'attivazione del recettore quindi se noi ci immaginavamo un meccanismo di secrezione classico la molecola viene rilasciata e diffonde e vai quando trovi un recettore mandi un segnale poi tutto il resto deve succedere a livello intracellulare in realtà forse ci immaginavamo qualcosa di sbagliato questi meccanismi paraclidi possono essere anche loro super localizzati e questo per esempio è uno di questi casi quindi la cellula madre riceve una segnalazione locale puntuale di BMP ok e in realtà vabbè poi ci sono una serie di controlli adesso non voglio farvela tanto lunga comunque qui vedete il TKV questo è il recettore in rosso espresso dappertutto ma il recettore attivato vedete è solo qui e qui quindi le cellule del lab hanno una secrezione locale lì solo sulla cellula che deve rimanere staminale che è agganciata da quel lato di questo fattore di crescita quindi il fattore di crescita la pappa reale che tiene la regina a fare la regina viene data giustamente col cucchiaino d'accordo anche se è una molecola secreta eccetera eccetera ok e adesso voglio farvi vedere quindi questo era giusto per farvi vedere appunto da un lato la segnalazione del BMP ci sono dei mutanti eccetera eccetera ma un altro modello invece di così per giocare con queste cellule staminali e vedere come è regolato il loro potenziale è stato quello di giocare con la via delle stat quindi l'altra l'altra via di segnalazione vi ricordate UPD agiva su jack stat e questo in qualche modo in realtà tornava indietro adesso non vi faccio vedere ecco su queste cellule aderenti questo è un elemento importantissimo dell'adesione con l'hub ok se tu togli questa via di segnalazione delle stat in realtà quel meccanismo di adesione si perde quindi si perde la segnalazione con DPP quindi parte bam e bam quando parte bam cosa abbiamo detto che succede differenziamento ok quindi se io tolgo stat perdo l'adesione perdo quel contatto quel imboccamento di BMP che mi teneva staminale perdo la pappa reale e differenzio allora con l'adrosofila si fanno alcune cose fighissime tipo avere i mutanti temperatura sensibili ce ne sono tanti in giro c'è una proteina stat che funziona a 18 gradi ma se tu l'animale lo porti a 30 gradi quindi lo fai vivere in un ambiente un po' più caldo invece la proteina sfolda si sfolda si denatura e non è più funzionante ok mutanti temperatura sensibili sono stati utilizzatissimi allora che cos'è che ci aspettiamo che succeda quindi a 18 gradi la proteina è normale ma se li porto a 29 la proteina stat si sfascia e è come se fosse un mutante di stat però è un mutante da quel momento in avanti cosa ci aspettiamo che succeda abbiamo abbiamo detto scusate la cellula si staccherà non ci sarà più BMP parte bam e abbiamo il differenziamento siete d'accordo? no? siete vivi? chiamo chiamo dei dottori questo allora voilà ed ecco in effetti che cosa succede anzi no questa non mi piace tanto secondo me è più bello questo voilà allora questo è guardatelo un attimo poi ve lo scrivete tanto vi metterò l'articolo originale vediamo tutto che cosa succede? questo è il lab qui ci sono le cellule agganciate scusate che ora è? ok alla grande stiamo andando alla grande allora allora vedete questo è il lab queste sono le diciamo le cellule staminali che stanno agganciate lì al lab qui c'è diciamo così una serie di transit amplifying cells e qui abbiamo gli spermatociti che iniziano il differenziamento ok? 18 gradi allora alzo il termostato porto a 29 la proteina sfolda stat non funziona più nella cellula cambia qualcosa e lo vediamo in questa fotografia vedete che prima BAM era espresso qui ma non qui invece improvvisamente tutto si sposta ok? ovviamente chi era qui al giorno 0 al giorno 1 è diventato uno spermatocita è passato in quest'altra zona di differenziamento quindi è andato avanti è sceso lungo il pendio di Waddington che qui possiamo vedere in questo tubo e però chi era agganciato al lab adesso comincia a esprimere BAM cioè le cellule staminali non fanno più le staminali basta non lo so faccia mi sono innamorata di uno di due come sono la storia di pianoforte e me ne vado ciao e lascia la casa ok? se ne vanno se ne vanno decimendo di rimanere lì a fare gli angeli del popolare gli angeli del tubo oh no mamma dove vai torna qui vieni dal piccolo oddio lo rocco aspettate ecco ho sparato troppe cazzate sono stato punito eccomi rieccomi ok? quindi la cellula staminale non vuol più fare la mamma ok? cambia il suo destino è cambiato il suo destino e procede lungo il differenziamento ok? al primo giorno sono già molte ad aver preso questa scelta al secondo giorno sono tutte nel giro di due giorni le cellule staminali sono tutte partite per il differenziamento non è rimasta neanche più una esaurimento del pool fine della storia niente più spermatozoi ok? ma il signor ricercatore invece è gentile e dopo due giorni rimette le mosche rimette le drosofie a 18 grammi ok? e che cosa succede? succede che d'improvviso le cellule che erano agganciate al lab riesprimono stat rimettono la caverina e si riagganciano gli ritorna UDP reprimono BAM e tornano ad essere staminali come prima scusa è stata una scappatella ma sì alla fine quel signore di pianoporte non mi piaceva neanche tanto era un brutto si sta molto meglio a casa ok allora attenzione però questa cosa qui questa cosa qui a parte il romanticismo se volete vedercelo dice qualcosa di molto interessante su questo processo del differenziamento su questo rotolare e su quand'è che la strada diventa irreversibile ok? quindi questa strada del differenziamento secondo voi è irreversibile? oh dimmi oh yeah esatto cioè le viste qua al secondo giorno erano ormai diventate tutte in realtà loro aspettano quattro giorni qui ce n'è ancora una a quattro giorni non c'è più niente le staminali sono andate via completamente a due in quasi tutti gli animali a quattro in tutti gli animali ovviamente c'è una statistica adesso non vi sto facendo vedere troppi conti ma lo vedete in questo grafico qua dopo quattro giorni cellule staminali agganciate all'hub zero sono tutte bam ok? e hanno anche i ponti cioè non è solo l'espressione di bam ci sono anche una serie di elementi fenotipici si sono agganciate sono tante invece questi ponti quindi questi cloni si disgregano e tornano ad essere staminali ok? c'è proprio un cambiamento di fenotipo ah no che stupido ma io sono una madre di famiglia come posso andarmene via così a farmi lo spermatozoo? ok? si la cellula differenziata lo vedete qua ok? questa cellula qui ritornando ad avere stat attivabile torna ad essere staminale e si riaggancia a questo ham quindi è possibile tornare indietro si può tornare indietro entro un certo limite però perché se loro aspettano più di quattro giorni cellule che hanno fatto uno salto ulteriore e sono diventate spermatociti quelle no quelle non ritornano più indietro ok? però esiste la possibilità quindi a questo punto ma quanto è intrinseco e quanto è estrinseco il potenziale staminale ok? in realtà il gonioblasto quindi la cellula che è andata via dalla nicchia lui ancora ce l'avrebbe questo potenziale si può tornare indietro si può essere riprogrammati e in realtà studi più recenti fanno vedere che questo reprogramming qua e là succede davvero in vivo cioè in vivo ogni tanto il pool di staminale viene ripopolato magari una cellula muore per vari motivi può capitare le cellule muoiono continuamente e questo pool può essere ripopolato da gonioblasti che tornano indietro ok? e questo è semplicemente uno schema per farvelo vedere quindi le germ stem cells germline stem cells niche vacancies possono essere filled by early spermato gonial cells ok? quindi questo lo chiamiamo dedifferenziamento dimmi quindi le cellule stanno sferizziando sì al secondo giorno vedo lo stasso è riattivato e una delle cellule è riattivata quindi una delle cellule si riattiva a stacco esatto sì 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 si riattiva a stacco ma secondo voi quanto è potente a riprogrammare questo hub? se ci prendiamo un fibroblasto di drosofila lo agganciamo all'hub facciamo spermatociti? eh? chi pensa di no alza la mano chi pensa di sì alza la mano ok sempre un sacco di timidi comunque ragazzi qui c'è un problema di timidezza facciamo venire dei psicologi sono preoccupato ok sì la risposta è no d'accordo c'è un concetto che introdurremo la prossima volta anzi forse tra due perché mi sto un po' allungando che si chiama competenza bisogna essere competenti a riceverlo un certo segnale e in effetti questo viene dimostrato anche in questo modello nel senso che se voi aspettate troppo gli stessi spermatociti che poi sono poco più avanti nel lineage già questo salto indietro non lo sanno fare più ok qui vi ho messo solo le vie per poterle ricordare ok ma abbiamo detto vediamo se ce la faccio a finire ah sì ce la faccio ce la faccio con ancora un altro esperimento vediamo un po' di esperimenti vi piacciono gli esperimenti? siete venuti a biologia per fare che cosa no? non per fare gli esperimenti? perché volevate fare gli scienziati se non per fare gli esperimenti? però purtroppo per fare gli esperimenti bisogna spremarsi le meningi e imparare questa logica di interpretare il risultato di pensare qual è il senso come disegno l'esperimento come interpreto il risultato e poi solo da lì andiamo a fare dei modelli perché se no il modello non dice niente il modello lo vendete alla stampa e poi ci fanno i soldi i venditori di fumo neanche voi allora ok però abbiamo detto quindi ci sono questi modelli di questo che abbiamo visto adesso è un modello grandemente deterministico gerarchico la cellula si divide in modo asimmetrico e questo è il meccanismo di self renewal di mantenimento di questo potenziale forever and ever perché ovviamente la cellula staminale è forever and ever se no non è staminale ok però esiste anche questo altro modello di divisione appunto di divisione differente e tutto sommato quella che abbiamo visto adesso potrebbe essere quasi ricondotta a qualcosa di questo tipo allora ma per rimanere in termini spermatici o come vedete non l'ho fatto apposta lo giuro avete notato la mia maglietta di oggi come sono a tema cioè meglio di così e siamo anche svizzeri sui tempi siamo perfetti allora vediamo un altro modello di spermatogenesi questa volta nei mammiferi allora vi ricordate vagamente come funziona i tubuli seminiferi l'anatomia molto velocemente è un epitelio è un epitelio alla cui base ci sono questi spermatogoni e gli spermatogoni sono cellule staminali ok lì in mezzo ci sono le cellule staminali come nel caso della drosofila questi spermatogoni si dividono per dare dei sincizi questi sincizi però sempre in questa zona basale dove c'è la barriera emato-testicolare ma comunque in questo compartimento basale che di nuovo ci ricorda una come si chiamano le case delle staminali una nicchia ok questa è la nicchia delle cellule staminali del testicolo di mammifero del topo in questo caso questo è umano ma la foto mi pare sia il topo comunque questo spermatogoni il topo va bene ma a parte questo qui abbiamo appunto questa divisione quindi vedete che abbiamo alcune cellule che sono singole mentre altre le vediamo già partite per un processo di differenziamento queste si stanno dividendo quindi in qualche modo queste generalmente sono quiescenti se sono singole perché non si dividono quando ti dividi tuo fratello ti rimane appiccicato ok quindi quella è quiescente l'altra si è già divisa ok quindi queste sono cellule che si stanno dividendo queste sono cellule che non si stanno dividendo allora per un sacco di tempo nell'idea tipo l'ematopoietic stem cell la cellula staminale quella vera non si divide mai meno si divide più è staminale ok allora si è sempre pensato che la cellula staminale di questo sistema fosse la cellula singola ok che in qualche modo ogni tanto sapeva fare questa divisione in realtà degli studi un pochino più recenti hanno fatto vedere che in condizioni fisiologiche succede qualcosa di molto simile a quello che vi ho fatto vedere adesso del mutante temperatura sensibile di idrosofia cioè in condizioni fisiologiche ogni tanto questi gruppi si disgregano e le cellule ritornano ad essere singole ok quindi in qualche modo tutti questi elementi sono potenzialmente staminali ok tutta questa prima parte fino a 16 cellule queste sono potenzialmente staminali allora un signore ok quindi sono stati fatti dei lineage tracing sono stati fatti di mille mille e poi qui continua a dire quella secondo me è la staminale quindi c'è un sistema gerarchico c'è la peregina la peregina si divide ed ha origine tutto il suo lineage un sistema gerarchico lo stocastico non ci piace va bene specialmente nel testicolo stocastico allora e invece il signore Simmons che tra parentesi è un fisico ha cercato di analizzare in modo un pochino più matematico quantitativo degli studi di genetic lineage tracing quindi tornate un attimo all'inizio della lezione la storia della Crayer T2 ok lui cosa ha fatto ha preso il Crayer T2 e l'ha messo sotto le regioni regolative di neurogenina 3 NGN3 che è un gene espresso diciamo in questo in questo gruppo fino a 16 cellule ok queste sono le cellule staminali qui vi fa vedere le espressioni di questi geni NANOS neurogenina 3 queste cellule esprimono questi due geni neurogenina è un po' più verso il differenziamento però insomma lui aveva a disposizione questo e usa questo e che cosa fa? lui di tamoxifen ne dà pochissimo in modo che siano pochissime le cellule a poter ricombinare ok vi ricordate? tolgo lo stop codon e da lì in avanti tutto il lineage lo marco è marcato allora lui lo fa proprio con una micro goccia glielo fa annusare da lontano della gabbietta agita il claconcino e in questo modo ricombina solo qualcosina qua e là pochissime cellule ricombinate e poi aspetta fino a 14 mesi a vedere quindi aspetta molto tempo visto che queste cellule si dividono poco raramente bla 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 aspetta un sacco di tempo a vedere che cosa succede di questi figli allora questo è un epitelio le cellule sono appiccicate tra di loro e non se ne vanno ognuna per conto suo e questo è ovviamente un bel vantaggio perché i cloni ovviamente queste sono tante cellule rimangono tutte appiccicate ok quindi lui riesce a capire la dimensione di un clone quanto si è espanso sulla base di quanto è grande il tratto del tubo che appunto diventa blu trattando con X-gal allora qui solo un secondo un attimo di riflessione su quello che noi ci possiamo aspettare da questo esperimento ok quindi noi vogliamo capire qual era il potenziale della cellula che abbiamo marcato e il modo in cui si divide ok ogni cellula staminale si divide ogni tre giorni da origine a un'altra che si divide da altri sette giorni e quindi ogni cellula staminale darà origine a mille cellule figlie questo è quello che mi aspetto quando marco la cellula staminale vero è che magari questo NGN3 marca anche qualcosa di già un po' più avanzato nel lineage però queste cose più avanzate nel lineage io mi aspetto che non sappiano fare il self renewal quando sei partito per il differenziamento quello è senza ritorno e quindi ci saranno delle cellule che sono così la peregina e che marcano tutto un gruppo di cellule figlie ok e ci saranno delle altre cellule che invece sono soltanto una cometa e passano tu marchi il transit amplifying cell scusate guardate bene questo schema cellula staminale transit amplifying differenziamento quindi ci saranno delle altre che magari erano transit amplifying e queste si devono perdere ci saranno degli altri casi in cui magari la cellula staminale fa questo self renewal quindi questa espansione del pool e potrebbe questo potrebbe avvenire che essere che invece un'altra lì vicino invece si perde smette di fare il self renewal basta me ne fuggo con il pianista che mi è piaciuto tanto ok e vediamo un po' qual è che è il risultato ok vi faccio vedere questo poi abbiamo finito allora loro vanno a valutare per ognuno di questi cloni per ognuno dei tempi il numero di cloni che trovano in questo animale e la dimensione di questo clone che è facile perché si misura la lunghezza del tubo che è diventata blu quindi abbastanza veloce anche se volete che cos'è che lui vede numero uno il numero di cloni crolla verticalmente vum va giù molto rapidamente ci sono sempre meno cloni e qui qui vedete la media queste sono le medie per il numero di cloni e questa la dimensione del clone il numero di cloni crolla e la loro dimensione diventa sempre più grande sempre meno cloni e però cloni sempre più grandi almeno come medie com'è che io posso interpretare questa cosa? lo so che siete stanchi adesso magari ve lo dico io un modo per interpretare questa cosa è proprio dire quella gerarchia lì cioè io magari con NGN3 ho marcato a volte una cellula che era più brava a fare self-renew a volte una cellula che lo era meno quindi all'inizio tutti quelli che sono transit amplifying me li sono persi e invece chi era in grado di andare più a lungo è andato più a lungo e in effetti sulla media io vedo che man mano che passa il tempo i cloni sono sempre più grandi ok però c'è un problema dovuto al fatto che però allo stesso tempo questi pochi cloni che rimangono sì che la media è un pochino più grande ma vedete la variabilità cioè il concetto è che questi cloni diventano sempre più grandi l'aumento è continuo e in più variano un casino alcuni cloni diventano molto piccoli e altri cloni diventano molto grandi quindi sempre meno cloni ma sempre più grandi allora un altro modo di interpretare questi dati e andando a fare un'analisi statistica un pochino più dettagliata è un po' di modeling cosa che il signor fisico sa fare molto bene noi biologi cerchiamo di interpretare con i disegni del libro ok insomma sensazione perché questa è la nostra formazione un po' più a sensazione quindi cerchiamo di guardare le figure farci un'idea ok però sempre in modo molto naif se volete invece il fisico e ragazzi qui vi faccio un monito la fisica nasce come trattazione matematica cioè è inscindibile atomi caduta di gravi è inscindibile la trattazione matematica noi biologi abbiamo fatto finta che non fosse così per la biologia ma non è vero ok e adesso che la biologia accumula un sacco di dati arriva il fisico e fa un se dietro l'altro ok questo qui è un fisico della materia ha detto ma veramente non sapete risolvere queste minchiate e lui sta veramente cioè se volete le pubblicazioni di questo ragazzo fanno impressione ok comunque lui semplicemente si è rifatto alla neanche tirando fuori niente di particolarmente sofisticato la matematica dei giochi non so se sapete che cos'è qui andiamo sul complicato però il concetto è che per spiegare questo andamento quest'aumento della variabilità e del numero lui ha creato semplicemente un modello matematico basato appunto su questo neutral competition cioè ogni cellula ha la stessa probabilità di andare incontro a differenziamento oppure di perdersi ok allora se voi applicate questo modello ai dati di lineage tracing che lui ha ottenuto fittano perfettamente ok cioè questo modello è l'unico in realtà perché l'altro noi ci aspettiamo una variabilità molto minore in un modello gerarchico con un disegno intelligente che la cellula si divide in quel modo e così va avanti per sempre invece tutto questo aumento della variabilità è spiegato solo attraverso un meccanismo stocastico ok in cui la cellula ha la stessa probabilità o una sua probabilità ok esiste una probabilità di dividersi ed esiste una probabilità di dividersi in un certo modo in un modo piuttosto che un altro ok e dalla somma di queste probabilità emerge questo emergono questi cloni diversi in un modello invece puramente gerarchico noi ci aspetteremmo dei cloni più o meno sempre uguali ok specialmente a tempi lunghi ok ci aspetteremmo qualcosa di molto predeterminato molto più predeterminato e invece la sorpresa è che ci troviamo di fronte a un meccanismo stocastico quindi noi possiamo riuscire in qualche modo ad ottenere un effetto finale che sembra predeterminato attraverso dei meccanismi stocastici e vedremo nello sviluppo ce ne sono tante di queste storie in cui il caso in realtà porta verso l'ordine ok e giusto per chiudermela scusate velocissimamente in realtà io vi ho fatto il modello del testicolo perché si univa bene al modello del testicolo idrosofile che abbiamo già fatto ma se qualcuno di voi sarà mai interessato a studiare le cellule staminali in realtà questo modello stocastico è dimostrato ancora meglio in moltissimi altri epiteli nell'intestino nella pelle adesso ci sono esperimenti di live imaging quindi seguono le cellule con il live imaging con il single cell RNA-seq con il fact sort eccetera eccetera in realtà tutto porta veramente a validare quella che è stata l'idea di un fisico e che ha semplicemente in realtà anche dei biologi avevano sollevato quella possibilità però per riuscire veramente a chiudere la faccenda senza neanche troppa fatica ci voleva la matematica e la statistica quindi studiate la matematica e la statistica faccia o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o我 pi o.o.o.o.o.o.o.o.o.o